Dal 2020 abbiamo subito il peggio del peggio, prima il Covid, poi l'aumento delle bollette, fino ad arrivare all'inverno scorso dove insieme con il Comune abbiamo deciso di tenere chiusa questa vasca da 50 per l'inverno perché solo lei in 5 mesi invernali costava oltre 700 mila euro di gas. Oltre a pagare tutti i costi dell'energia passata, circa 900 mila euro di mutuo abbiamo dovuto fare per pagarla, con il Comune abbiamo concordato di fare 900 mila euro di investimenti che di fatto ci consentiranno di salvare questo impianto e di non farlo chiudere mai più. Il 20 di maggio riapriamo e riapriamo con un impianto rinnovato dal punto di vista tecnologico negli impianti per permetterci di risparmiare soldi e di far sì che l'utenza possa giovarne. Chi ha in gestione le piscine sa quanto ha sofferto nel periodo del Covid, dopodiché c'è stato il carro energia quindi tutte queste spese e mancati incassi hanno messo a dura prova soprattutto l'impianto datatorio di Pesaro ma nonostante ciò il giustore è stato forte a resistere perché la cosa più facile era quella di abbandonare tutto non dando una risposta importante alle migliaia di persone che utilizzano tutti i giorni questo impianto quindi sia alle famiglie che portano i propri figli ma anche chi sceglie questa struttura come attività per fare fitness se fare attività sportiva in palestra che in acqua. Quindi insomma siamo qua per dire che adesso questa struttura potrà risparmiare tanto in termini di energie, bollette, acqua e soprattutto quello che è e sicuramente da settembre questo impianto darà una risposta per la vasca da 50 metri anche per il periodo invernale. Noi abbiamo apportato alcune modifiche prevalentemente per dimezzare il costo dell'energia e abbiamo un cogeneratore che sarebbe una caldaia che scalda l'acqua che produce energia elettrica che produce 550.000 kilowatt all'anno. Abbiamo costruito 200 kilowatt di impianto sui tetti fotovoltaico che ci consente di produrre 230.000 kilowatt all'anno. In totale noi autoproduciamo 750.000 kilowatt che sono circa il 75% del nostro fabbisogno. Noi consumiamo circa un milione di kilowatt elettrici all'anno. Nel frattempo abbiamo sostituito una caldaia a metano che era vecchia con una pompa di calore che toglierà circa la metà del lavoro della parte del metano consentendoci di andare a risparmiare il 50% dei consumi di metano. Quindi noi di fatto ci troveremo da quest'anno a spendere metà dei soldi che spendevamo sulle bollette del metano e un quarto di quello che spendevamo nell'energia elettrica. Oltre a questo abbiamo comprato e installato un impianto solare termico con 18 pannelli che ci consentono soprattutto nel periodo invernale di andare a riscaldare un pochino l'acqua e portarla dai 12-14 gradi che di solito è l'acqua dell'acquedotto ai 22-24 gradi che ci consentono di far lavorare di meno la pompa di calore e le caldaie. Quindi anche questo sarà un importante risparmio. Poi abbiamo nei motori dei ricircoli dell'acqua, abbiamo messo degli inverter che ci consentono di abbassare la frequenza delle pompe, di abbassare del 50% i consumi e poi abbiamo comprato un sistema di telegestione che anche attraverso dei sensori ci consente di ottimizzare tutti i consumi di tutti i motori di tutto l'impianto. Di fatto abbiamo reso dal punto di vista tecnologico un impianto molto molto efficiente e all'avanguardia consentendoci appunto di migliorare il comfort per gli utenti e di diminuire drasticamente il consumo dell'energia.